Siamo in diretta, siamo qui con Claudio che ha la mamma di 80 anni appena compiuti e ci stava dicendo che atti alla mano, non chiacchiere, questa la leviamo che è la mela un po' troppo rossa, praticamente tua madre con un quasi MDA che comunque prevede la mela di inizio e fine giornata, cioè la mela appena sveglia prima di andare a dormire e con un quasi MDA perché non è proprio la frutta dolce a pranzo però comunque prima il crudo e poi il cotto, parliamo di veganismo, un quasi MDA vegano è regredita da una patologia che per i medici sta regredendo, sta iniziando a regredire a 80 anni da una patologia che i medici non sanno, dicono che non si può regredire beh diciamo è in cura con i farmaci e diciamo statisticamente non è mai regredito nessuno insomma si va sempre peggiorando come si chiama quindi la patologia? la patologia ha delle calcificazioni valvolari alla tricuspide ma più che altro alla ortica e alla mitralia e quindi le calcificazioni sono sempre più accumulate però da due anni piano piano è migliorata proprio prima i miglioramenti sono stati visibili e proprio la vediamo noi insomma anche lei si è sentita sempre molto meglio cioè carta canta? possiamo inquadrare? tu madre ti ha autorizzato a divulgare per salvare il mondo, il pianeta possiamo divulgare? sono i due esami ecocardiogramma color doppler a distanza di 14 giugno e 20 dicembre ok se giriamo vediamo proprio, a parte qua già vediamo delle differenze marcate no? sicuramente da 30, cioè il lume da 30 è passato a 32 da 58 è passato a 61 quindi si è allargato il lume quindi la calcificazione è regredita alza la voce che c'è una tv che alza la voce ma più che altro ci sono tutti questi miglioramenti, allora la valvola mitralica da medio grave è passata a media in sei mesi? no non in sei mesi, diciamo questo è visibile da sei mesi però in sei mesi possiamo dire questo è giugno e questo è dicembre il riscontro è di sei mesi però è di due anni diciamo è da due anni che sta migliorando però gli atti dicono che in sei mesi è passata da medio grave a media poi la calcificazione da significativa è passata a moderata ok per quanto riguarda questa la mitralica per la ortica la fibrosi è passata da significativa è passata a lieve invece per la valvola tricuspide da insufficienza medio grave è passata a media poi per quanto riguarda la valvola polmonare da insufficienza lieve è normalizzata così come la pressione sistolica polmonare che prima era leggermente aumentata almeno questo termine dicono qua e adesso è media ipertensione sistolica polmonare ok quindi possiamo dire che grazie al protocollo MDA di 3M un quasi vicini a questo protocollo 80 anni non è facile fare cambi repentini però mi mette la mela appena sveglio la mela prima di andare a dormire questo anche gente di 80 anni sappiamo che lo fa quindi grazie a questo protocollo di vegano vegano semi crudista semi perché comunque mangia prima il crudo poi il cotto quindi seguendo il protocollo MDA di 3M certo certo comunque profettiamo per dire che siamo qua alla Cina di Gabriele al palo d'arrivo ristorante siamo nel comune di Capena Capena via Capena via Traversa del Grillo Traversa di Beppe Grillo e oggi hanno bocciato chi? hanno bocciato i petardi quelli che uccidono gli animali il gatto e il cane sentono questi petardi c'ha la stessa il dimonso della raggi che vietano i pochi d'artificio l'hanno bocciata beh ci abbiamo tutti contro i tuoi colleghi di Roma Capitale sono simpatici burloni ti ricordo che siamo in diretta senti va bene dai adesso aspettiamo che escano i famosi piatti i manicaretti fruttariani di cui possiamo far vedere una foto attenzione attenzione tagliatella fruttariana maccheroni fruttariani attenzione pezza ah c'è la differenza c'è una va bene dai allora chiunque ti vuole contattare su facebook sei su facebook? no ah non ci credo c'hai un'email però credo vuoi dirla per caso cla.caputo chioccio il classicogmail.com quindi chi volesse capire anche qualche medico come Merciadri che vuole andare a battagliare con Giorgio Calabraso ok quindi sei in Merciadri in Ascolto tu puoi produrre questi atti di qualcuno che va in tv a battagliare contro questi medici puoi testimoniare può testimoniare tua madre witness no? un testimone quindi puoi andare in tv tra l'altro le Iene hanno fatto l'ultimo servizio sulla nutrizione clinica nell'ospedale dove gli danno cibi solamente cancerogeni al reparto di oncologia cioè la carne che l'OMS ha dichiarato essere cancerogene a livello 1 esattamente come il benzopirene benzopirene come idrocarburi come se te fumi se te mangi l'idrocarburi del cemento e le Iene hanno dimostrato che tutti i reparti di oncologia danno da mangiare solo cibo cancerogeno e chiudevano il servizio le Iene dicendo chiunque vuole farsi avanti a testimoniare per partecipare al dibattito quindi tu potresti scrivere alle Iene per cercare a gennaio riprendono la trasmissione quindi se ci ascolta Nadia Toffa che ha fatto la puntata ok dai ci punto caputo questo miglioramento e adesso cominciamo iniziamo la sequenza il protocollo MDA poi quando usciranno i piatti quelli più variopinti e più eclatanti facciamo un'altra diretta ok ok